Ehi tu! Sì, sto parlando proprio con te! Sei stanco di pesare 150 chili e di dover usare il montacarichi per alzarti dal letto? Sei stanco di dover chiamare tua madre ogni volta che il tuo culo rimane incastrato nel batterio? Vuoi bruciare tutto il grasso del tuo corpo in una volta sola? Bene, e allora... Datti fuoco! Datti fuoco!